Prepareranno gli studenti toscani sul tema dell'olocausto e li accompagneranno nel percorso formativo che culminerà a gennaio con il viaggio sul terreno della memoria, l'iniziativa promossa dalla regione toscana che ogni due anni conduce i giovani delle scuole superiori a visitare i lager di Auschwitz e Birkenau in Polonia. Sono i 60 insegnanti che hanno partecipato alla Summer School sulla didattica della Shoah organizzata dalla regione che si è tenuta alla Certosa di Pontignano, cinque giorni di formazione dedicati al tema delle deportazioni e dello sterminio. È un'iniziativa che portiamo avanti da vari anni e che è una parte, rappresenta una parte di tutte quelle politiche che la regione toscana mette in campo sul tema della memoria. Noi speriamo appunto in questa settimana di aver dato gli strumenti agli insegnanti per fare proprio questo, analizzare con spirito critico e da prospettive diverse il tema della memoria, un tema che è sempre più importante oggi, un tema che forse ci aiuta anche a trattare bene le questioni contemporanee. Voi che vivete sicuri, razzismi ed esclusioni è stato questo il filo conduttore della quarta edizione della Summer School perché studiare la frattura di civiltà rappresentata da Auschwitz e dai lager nazisti poi deve fornire una chiave di lettura per le discriminazioni del presente che avvengono nei confronti dei migranti in Europa. L'obiettivo del corso formativo è proprio quello di dotare gli insegnanti toscani degli strumenti necessari per affrontare queste tematiche cruciali e delicate insieme ai loro studenti. Questa è un'occasione appunto della Summer School intanto di formazione per gli insegnanti ma soprattutto anche per una condivisione di didattica importantissima soprattutto nell'epoca appunto ormai sicuramente multiculturale ma anche multiraziale e di neurazzismi sicuramente. Io ho partecipato già all'altro treno e queste tematiche sono state affrontate partendo da una ricerca sul campo dei ragazzi quindi attraverso un'azione molto attiva di presa diciamo così di coscienza di quelle che sono anche i forti attaccamenti agli stereotipi attuali. Quindi l'altra volta abbiamo lavorato molto sul pregiudizio, sui pregiudizi attuali ancora molto 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 forti. Vista del treno della memoria lei sta tenendo un laboratorio sui social network per i ragazzi? Sì abbiamo affrontato appunto un laboratorio insieme all'organizzazione della Summer School che è stato molto interessante perché ci ha dato appunto alcuni spunti, alcune opportunità. I temi per quanto riguarda la memoria sono più o meno quelli e sono più o meno conosciuti. Quello che cambia con l'evoluzione, con l'andare avanti della tecnologia, delle tecnologie sono i modi comunicativi, i mezzi di comunicazione. Comunicare anche gli stessi contenuti ma conforme con mezzi nuovi e innovativi e se si può fare qualche nome da Facebook in giù credo che sia vitale per la stessa trasmissione dei contenuti che poi vengono veicolati. Ecco quello che io posso trovare scritto in un libro per quanto fondamentale è lo stesso contenuto che io posso passare attraverso un mezzo comunicativo che risulta alla portata dei ragazzi. Dalla creazione del consenso alla costruzione del pregiudizio dagli stereotipi promossi attraverso i mezzi di comunicazione a rapporto tra letteratura e sterminio fino alle radici culturali della violenza antisemita. Sono stati molti i temi di approfondimento presentati da storici ed esperti agli insegnanti toscani durante la Summer School, tra questi anche come affrontare e svelare la scottante vicenda dei falsi testimoni dell'Olocausto. I falsi testimoni sono una delle realtà a cui noi ci troviamo davanti senza nessuna reticenza, non solo da ora. Può darsi che in questi ultimi tempi il rischio sia in aumento dovuto anche alla morte dei veri testimoni e quindi al fatto poi che la Shoah, le deportazioni, anche la deportazione politica grazie alle politiche della memoria, al giorno della memoria, sono oggi al centro del discorso pubblico, della scena pubblica su cui noi ci muoviamo. E quindi può essere che ci siano, come nel caso del protagonista del libro di Xavier Sercas e l'Impostore, che ci siano dei personaggi mitomani che utilizzano questa scena per mettersi loro al centro. Per quanto riguarda noi bisogna, io credo che ci siano due strumenti sostanzialmente, che sono il modo di conservare il passato quando i testimoni diretti non ci sono più, anzi forse tre, la filologia, la storia, la conoscenza della storia e l'arte. Il treno della memoria dal 2002 ad oggi ha portato quasi 6.000 studenti toscani a visitare i lager nazisti e a gennaio partirà di nuovo alla volta di Auschwitz con a bordo 500 giovani e 75 insegnanti che viaggeranno insieme ai testimoni sopravvissuti ai campi di sterminio, ai rappresentanti delle comunità ebraiche e delle associazioni degli ex deportati, un'iniziativa fondamentale per mantenere viva la memoria tra le nuove generazioni e aiutarle a capire meglio il presente. Nel 1938 fu convocata dagli Stati Uniti a Evian in Francia una conferenza degli stati europei di allora per trovare una soluzione ai 350.000 ebrei che venivano espulsi alla Germania, siamo ancora nella fase pre-Auschwitz, 350.000 persone, sì sono tante ma sono poche. ebbene il verbale di quella riunione potrebbe essere praticamente utilizzato per i verbali delle riunioni di oggi in cui si dice le stesse cose, è un periodo brutto, l'economia va male, non ci si fa, la Francia, l'Inghilterra, tutti gli stati e non c'è dubbio siccome la storia non si fa con i sé ma la si capisce con i sé che se fosse stata fatta invece un'operazione di accoglienza da parte degli europei, la storia avrebbe avuto un corso diverso e questo vale anche oggi, tra l'altro allora erano europei perché lei dice rimane europei, ma si può pensare davvero di frenare i movimenti dei cosiddetti immigrati, si può continuare a dire questa cosa incredibile, quelli che scappano per motivi politici si possono accogliere e quegli altri no, ma quegli altri sono quelli che scappano perché non hanno da mangiare e possiamo continuare a dire noi che viviamo sicuri nelle nostre tiepide case e mangiamo a volte e buttiamo via anche tanta roba e questa gente non ha da mangiare, non si è data di paragonare Auschwitz ai barconi, non è questo il punto, ma i meccanismi che si mettono in moto sull'egoismo umano diciamo, sono gli stessi, sono identici. Il treno della memoria è solo il culmine di un sistema di conservazione della storia che in Toscana è più attivo che mai e vede in prima linea il museo della deportazione e della resistenza di Prato. Noi lavoriamo sulla memoria tutti i giorni dell'anno con visite di scolareschi soprattutto che vengano da ogni parte della Toscana ma anche da altrove, quindi questo è il nostro lavoro, crediamo fermamente che sia utile naturalmente per dare un contributo alla conoscenza in primis ma anche alla coscienza dei ragazzi e degli insegnanti.